Ok, per svolgere questo esercizio partiremo in posizione spina, le mani che saranno sotto le vostre spalle, piedi di gambe di stese, aprivo, tiro il corpo e sollevo il palcino, allingendo una posizione di allenamento tra spalle, palcino e tallone, mantengo la posizione per il tempo indicato, dopodiché ritorno in posizione di partenza.